Ciao a tutte ragazze, benvenuti e ben ritrovati nel mio canale. Oggi spacchettiamo l'ordine di brossier di giugno. Un ordine che mi piace tanto, ho raggiunto anche una soglia, è un ordine di 210 euro e ad eccezione di due prodottini, anzi di uno solo, che si trovava in un volantino, diciamo quelli che durano due settimane, sono tutti prodotti che mi hanno acquistato dall'album, quindi che ci sono per tutto il mese, che ci sono sempre, e adesso li andiamo a vedere. Qui ho messo la zona solari e poi ho selezionato un po' di tutto, e andiamo a vedere. Allora, questi ovviamente sono set che il brossier ha fatto un super prezzo con un bellissimo telo mare, telo mare, telo mare in regalo. Mi piace tantissimo, vediamo il primo. Il primo set, questo se non sbaglio, di 32 euro, abbiamo il solare di protezione 30 in spray, quindi in latte, con il dopo sole, io lo adoro questo prodotto, con un altro solare, questo 50 e più invece, non in spray, e una mini taglia del bellissimo olio iridescente Monoi, e quindi, come vi ho già detto, con questo bellissimo telo mare che è proprio targato il brossier, e mi piace tanto perché è quello classico in spugna e non in microfibra. A me non piacciono troppo sottili, mi piacciono mettendo anche un po' di comfort. E quindi questo me l'ha preso una cliente. Poi, questo set invece l'ho preso per me, perché nell'album scorso avevo preso questo solare, ovvero quello fattore di protezione 30 in spray molto leggero a livello di texture. Poi, cosa è successo? Che a maggio una cliente me l'ha chiesto e non gliel'ho ordinato, perché avendo visto poi questa offerta, e dato che dovevo prendere anche questo prodotto, mi sono innamorata del telo mare, perché come può una consulente di bellezza non avere questo telo, e quindi alla fine poi le ho rivenduto quello che avevo preso per me, anche perché non l'avevo ancora utilizzato. Scusate, mi sto muovendo troppo. E quindi questo che ho preso io ha solo i 29 euro il telo, il doposole, che io utilizzo anche per il viso, questo è il corpo, ma se non sbaglio dice che va bene anche per il viso. C'è anche appositamente per il viso antità, ma io, che non ho una pelle matura, lo utilizzo anche per il viso e mi sono trovata benissimo l'anno scorso. E poi due solari in spray. Questo fattore di protezione 30, che sicuramente utilizzerò all'inizio, e poi in una seconda parte, quindi dell'estate, lascerò questo, che sicuramente terminerà perché lo utilizzerò insieme a mio marito, prenderò questo fattore di protezione 15, o comunque non sembra, ma ha una carnagione olivastra, per nulla delicata, e va bene quindi poi scendere di protezione. E in più una mini taglia dell'olio ididescente, anche qui monoiche, fantastico. Un'altra cliente invece ha preso questo set, che sempre si trova in tutto l'album di giugno. Aiuto, qui non ricordo bene il prezzo, scusate. Qui invece in regalo abbiamo questa pochette, che è molto carina perché dentro è imbottita, quindi bellissima, proprio da portare al mare. E qui abbiamo sempre il doposole, e la protezione 50+, sempre in latte delicata. E qui invece abbiamo una mini taglia di uno dei miei prodotti sempre preferiti, il brochet, ovvero il commage monoiche, fantastico. E questo ovviamente, questo set è venuto molto meno rispetto a questi altri due. Poi, una mia collega ha voluto prendere questo autobronzante, che mi sembrava più piccolo, visto dal volantino. Invece è un bel tubo da 100 ml, io non so perché convinta 75 ml, quindi mi aspettavo un tubo così alto. E questo veramente c'è sempre, ovviamente nei vari album, ma c'era anche in uno dei volantini, a un buon prezzo, quasi al 40%. Viene, se non sbaglio, 9,95€, lei ha acquistato a soli 5,95€. Quindi, già che voleva prendere un autobronzante, ha fatto un affare. E quindi qui abbiamo terminato con i solari. Passiamo invece ora ai prodotti per il viso. Io, tra l'altro, in questo ordine, ho preso più cose per me, perché avevo fin terminato un po' di prodotti e ne ho approfittato. Io ho voluto prendere per me questa mousse detergente per il viso. Appena l'ho vista che è uscita, sono impazzita, perché io adoro tantissimo detergere il viso con le mousse. Mi piace tantissimo questa tipologia di prodotto. E questa è della linea Puralg. Una linea dedicata a tutti i tipi di pelle, da normale a mista, che è proprio la mia tipologia di pelle. Ma secondo me, non so, io questa linea la vedo per pelli normali. Ecco, ma secondo me va bene un po' per tutti i tipi di pelle. Ed è questa qui, molto carina, da 150 ml, che proverò. Poi, sempre, diciamo, della stessa linea, perché, no, scusate, questa in realtà è per una linea da normale a secca, ho voluto prendere il siero. La linea, ovviamente, di DraVegital la conoscete, perché è una linea che c'è già da tempo in Yves Rocher, e ho voluto prendere quindi questo siero, che è molto idratante, perché ho terminato in generale il siero in casa, e quando devo prendere questa tipologia di prodotto, ne voglio una reazione super idratante. E questo, come elemento, ha l'acqua cellulare di Elulis, un elemento che dà molta idratazione alla pelle. Ecco, questo è molto carino e comunque per essere un siero ha un buon costo, si aggira i 12,95 euro a prezzo pieno. Poi, una cliente ha voluto prendere questo correttore anti-età della linea White Botanical, che per chi non la conoscesse è una linea che va ad aiutare a contrastare le macchie. E molte persone, purtroppo, hanno dovute a molteplici fattori. Un'altra cliente, questa qui, mi ha preso varie cose di questa linea e sono tanto contenta perché mi ha detto che si è trovata super bene perché ha visto dei risultati, ovvero alcune macchie sulla zona viso affievolersi notevolmente. Sono molto, molto contenta di questa cosa. E quindi nulla, questo è il prodotto. Poi, invece, un'altra cliente, una ragazza, ha voluto prendere la crema Sevo Vegetal, che è una crema da viso giorno per tutti i tipi di pelle mista e grassa. E questa è in gel crema, quindi è molto leggera e soprattutto molto carino il fatto che ha un'azione mattificante, quindi non dà lucidità alla pelle, anzi, un effetto mattificante. Perché all'interno contiene la polvere del tè boreale, che proprio dà questo effetto alla pelle. Poi, andiamo a cosine un po' per il corpo. Mi hanno preso due saponi mani. Una cliente che proprio adora i saponi mani brosci e ha preso, come sempre, vaniglia bourbon, che mi piace tantissimo. E poi mi ha detto per la seconda fragranza, fai tu. E io ho scelto di prenderle questo, lavandina in mora, che è una fragranza che mi piace tanto. Poi, sempre io ho preso per me l'acqua profumata della stessa fragranza e ho voluto prendere un deodorante. Ce ne sono di tre tipi. Questo è quello alla menta piperita bio, che però penso non utilizzerò per me, ma dovrò fare un regalino per la mia zia, che tra un po' di giorni fa il compleanno. Lei prende spesso prodotti brosci, soprattutto lei non si trucca, prende più prodotti per il corpo e quindi farà un pacchettino con un po' di prodotti misti, tra cui anche un deodorante, perché comunque ha più di 60 anni e preferisce utilizzare, prendere prodotti per la quotidianità e le farà sicuramente piacere. Poi, sempre per me ho voluto prendere un'altra di questi matitoni, questi ombretti, gli Ombre Lifeproof, in una colorazione che mi manca e ho preso questa, la Kaki, che è questo color Kaki stupendo, che non vedo l'ora di provare, io mi trovo benissimo con questi matitoni, ne ho 5 in tutto, sono 10, se non sbaglio, intanto ho preso questo, ma penso che al prossimo ordine prenderò anche quello color prugna, il prugne. Poi, per quanto riguarda la sezione dei capelli, io ho preso sempre prodotto offerta, giugno, molti trattamenti capelli a 6,95€ al posto di 9,95€ e ho voluto prendere questo qui, che è un termoprotettore, è un prodotto, vediamolo meglio, antirottura, quindi è un siero che è fortificante, adatto al mio tipo di capello, che è molto sottile e fragile e aiuta, protegge dal calore fino a 230 gradi. Eccolo qui. Gli ingredienti che troviamo sono i fruttani di agave e cos'altro? Principalmente questi. È un bel flacone da 100 ml, a me solitamente questi prodotti per capelli mi durano una vita, l'ho preso anche in offerta, sono contentissima di averlo preso, perché per la mia tipologia di capello ne ho bisogno. Un'altra cliente invece mi ha voluto prendere uno shampoo normale, questo in gel, nello specifico l'antiforfora. Sempre io che adoro i prodotti per capelli, ho voluto subito prendere la novità, come una brava consigliera secondo me dovrebbe fare, ho preso proprio un prodotto che è uscito in questo album, ovvero lo shampoo solido, che in casa quindi il brusche ce l'ha pochissimo, praticamente con l'arrivo dell'album di giugno. Il brusche ne ha creati tre, uno nutrizione per capelli secchi, molto secchi, questo che va bene per tutti i tipi di capelli, è delicato e promette di tenere i capelli più puliti, quindi perfetto per me. E poi un altro con la custodia fucsia, che aiuto sempre per capelli brillanti. non ricordo ancora un'altra caratteristica, comunque sono in lancio a 7,95€ con la scatolina invece abbinata a 9,95€ io l'ho presi senza scatolina e sono molto fiera di averli presi perché il brusche con l'acquisto di ogni shampoo solido va a piantare un albero perché la fondazione il brusche sappiamo che si impegna molto per queste iniziative e poi cos'altro ah, cosa molto importante voglio dirvi un panetto di shampoo solido equivale a due ecotubi da 300ml fantastico quindi il prezzo diciamo che ne vale la pena è un prodotto che dura ma soprattutto mi piace proprio la filosofia dello shampoo solido evitiamo lo spreco di plastica qui abbiamo soltanto la confezioncina di cartone riciclabile mi piace tantissimo questa questa nuova entrata e sono contenta di averli presi poi sempre invece nei volantini flash una cliente mi ha preso questo set che contiene tre mini taglie di trattamenti questo è il gommage l'anti pollution che si quindi un gommage che si fa effettuare sulla sulla cute questo è il famosissimo aceto da risciacqua per capelli brillanti molto amato e questo è il balsamo universale quindi un balsamo capello balsamo per capelli ideale per tutte le tipologie di capello che va proprio a ridare un nuovo capello più sano nutrito lucente ha tantissimi tantissimi benefici proprio per questo si chiama balsamo botanico universale e quindi questo è il set carino molto bello perché contiene proprio trattamenti speciali ok ho terminato con gli acquisti personali e non vi faccio vedere invece dei regalini che mi sono stati omaggiati con con questo ordine allora innanzitutto superata la soglia di soltanto 100 euro questa bellissima pochette di paglia con queste foglie questo stile tropicale proprio che grida estate che ovviamente voglio tenere per me voglio tenere per me tutte le pochette che riceverò io ho ricevuto il regalo dai brochet così perché sono un amante delle pochette e proprio per ricordarmi tutte le soglie tutti gli ordini effettuati poi soglia con 210 euro di di ordine io ne ho fatti proprio 211 non a caso il regalo ovvero una novità che è una nuova fragranza di bagno doccia ovvero frutto della passione e zenzero wow sono stra curiosa di provarlo sia nel flagone da 400 che da 200 ml e un sapone mani e questo è nella collezione nostra permanente mango e coriandolo poi questa proprio ve la devo dire fa parte di vantaggi di essere una consigliera di bellezza i brochet una nuova soglia nei primi dieci giorni di catalogo c'era una soglia scusate la rapidità rapidità in i brochet cosa significa? che effettuando un ordine entro i primi dieci giorni dall'entrata del catalogo ad un prezzo veramente piccolo si possono prendere dei prodotti che ogni mese il brochet seleziona in taglia piccola da poter sfruttare regalare alle clienti utilizzare come meglio vogliamo non ho soffruito di questa rapidità perché ho effettuato l'ordine dopo quindi questa rapidità era scaduta e poi c'erano le mini tagli dei bagno doccia di questo flacone da 50 ml io ne avevo ancora in casa subito dopo però è uscita questa nuova io la chiamo rapidità ha soltanto soltanto un euro quindi con l'aggiunta di un euro quattro balsami labbra che sono noce di cocco vaniglia burro ops karité e mora mora o lampone o mamma lampone scusate la mora è più scura praticamente un solo balsamo labbra viene 2 euro e 50 io in totale quattro a soltanto un euro wow che posso rivendere o utilizzare per me wow molto molto contenta di di questi incentivi di non incentivi scusate di di queste soglie extra che il brochet ci propone ovviamente non obbligatorio io ho voluto aggiungere un euro e prenderli infine con la soglia mi hanno omaggiata di tre album e tre buste oltre a i foglietti di fatturazione e poi due bustine con campioncini ho trovato queste due creme tanti sul siero notte della linea anti-agglobal uno del fondotinta le radio e poi tanti campioncini sui profumi maggior parte su un matin blank e qui è l'amour poi abbiamo un cure de nuit eccetera molto contenta meno male che mi hanno messo questi perché soltanto ora prendo il pacco ho detto cavolo mentre ho fatto l'ordine mi sono scordata di prendere gli album e di controllare se avevo ancora delle buste in casa ovviamente le ho però senza pensarci quindi meno male strano non mi dimentico e quindi niente questo è tutto l'ordine della prima parte del mese di giugno vi ho fatto vedere anche quello di maggio che è stato molto più piccolo subito dopo ho fatto un altro ordine ma non ho fatto il video qui su youtube ho fatto soltanto delle storie brevi su instagram spero vi sia piaciuto vi lascio qui sotto l'album corrente con tutte le offerte i prodotti che vi ho mostrato adesso e non solo per qualsiasi domanda mi potete contattare pure e nulla ci vediamo in un prossimo video ciao